Il consigliere comunale di Adrano, Agatino Scardina, ha presentato un'interrogazione consigliare per la sicurezza stradale in merito all'uso fuori controllo dei motorini elettrici. La sicurezza sulle nostre strade non è più garantita, i motorini elettrici, soprattutto nelle mani di minori imprudenti, sono diventati una vera e propria minaccia per adulti, bambini e automobilisti. Per questo motivo nella mia funzione di consigliere comunale ho presentato un'interrogazione consigliare per chiedere all'amministrazione di intervenire con decisione, così in una nota il consigliere Scardina, il quale poi aggiunge Negli ultimi tempi ho potuto rilevare un preoccupante aumento di segnalazioni di situazioni di pericolo causati dall'utilizzo sconsiderato dei motorini elettrici. Spesso alla guida di questi mezzi troviamo bambini e ragazzini che non hanno la necessaria consapevolezza delle norme del codice della strada e soprattutto dei rischi che corrono, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri. Le probabili modifiche illegali apportate a questi mezzi permettono di raggiungere velocità folli e di effettuare manovre azzardate come sorpassi pericolosi e slalom tra i pedoni. Tutto questo soprattutto nei centri storici e nelle zone affollate, così come all'interno della villa comunale, soprattutto durante il periodo estivo, crea un clima di paure e di insicurezza che non possiamo più tollerare. Per questo motivo, continua Scardino, ho chiesto con una interrogazione all'amministrazione comunale di verificare se sia effettivamente in atto un aumento degli incidenti causati dai motorini elettrici, adottare misure concrete per contrastare il fenomeno, come ad esempio una maggiore presenza di controlli da parte delle forze dell'ordine, valutare l'ipotesi di vietare la circolazione dei motorini elettrici nel centro storico e nelle zone pedonali, soprattutto durante il periodo estivo, promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, in particolare ai genitori dei minori, sui rischi derivanti dall'utilizzo improprio dei motorini elettrici. La sicurezza di tutti i cittadini, continua ancora Scardina, è un valore primario che non possiamo mettere in discussione. Invito l'amministrazione comunale a prendere sul serio questo problema e ad agire con decisione per tutelare l'incolumità di tutti. Non possiamo più permetterci di avere bambini che sfrecciano per le strade come kamikaze sui loro motorini elettrici. Oltre all'interrogazione consigliare ho evidenziato l'opportunità di convocare un'apposita seduta del Consiglio Comunale per discutere la problematica e individuare soluzioni concrete insieme a coloro che sono a tutela della pubblica incolumità, quali il comandante dei vigili urbani e il commissario di pubblica sicurezza. Con un'azione decisa e congiunta, conclude la nota di Scardina, possiamo rendere le nostre strade più sicure per tutti.